Gesù a scelli Anna Quello che mi è stato detto poche ore fa è davvero orribile. Un'ondata di sconvolgimenti si avvicina, scuotendo le fondamenta del mondo. La scelta tra bene e male, luce e tenebre, non è più procrastinabile. Il tempo stringe. Ogni giorno che passa ci avvicina al culmine delle profezie. Un inganno colossale si diffonde come un virus, avvelenando le menti e traviando le anime. Molti, accecati dall'illusione, saranno condotti verso la menzogna, credendo di seguire la verità. Con questo messaggio donato alla veggente americana Shelly e Anna, Gesù vuole metterci in guardia e farci comprendere come il mondo sarà presto vittima del male se non agiamo subito. Leggiamo il messaggio. Miei amati figli, questo non è un tempo per la tiepidezza o l'indifferenza. È un tempo di scelta radicale, per il bene o per il male, per la luce o per le tenebre. Gli eventi si stanno accelerando, e ogni giorno che passa vi avvicina al compimento delle profezie. Il grande inganno si sta diffondendo, e molti saranno tratti in inganno, credendo di servire la verità mentre seguono la menzogna. Vigilate, pregate incessantemente e rimanete saldi nella fede, perché solo così potrete resistere al giorno della grande prova che sta per abbattersi sul mondo intero. Non ignorate i segnali, non sottovalutate il pericolo imminente. L'Anticristo cammina già tra noi, e i Suoi seguaci lavorano nell'ombra per realizzare il Suo regno di terrore. Preparatevi spiritualmente, fisicamente e mentalmente, poiché i giorni che verranno metteranno alla prova la vostra fede e la vostra determinazione come mai prima. Ma ricordate, io sono con voi fino alla fine dei tempi, e nel mio amore troverete la forza per superare ogni avversità. Benedite mensilmente la vostra casa con l'acqua santa, per tenere lontano il male. Gli spiriti ingannatori al di fuori del mio regno di protezione possono entrare se invitati. Altri che sono stati accolti nella vostra casa possono portare con sé gli spiriti ingannatori che sono legati a loro, e la loro negatività malvagia influenzerà tutti coloro che vi abitano. Pulite la vostra casa con la mia acqua benedetta e il male fuggirà da voi. Gli spiriti ingannatori attendono ogni occasione per entrare. Allontanate da voi questi demoni, nel mio nome. I miei angeli vi proteggeranno. Rimanete nascosti, sotto il mio scudo di protezione, nel mio sacro cuore. Così dice il Signore.